Voglio presentarvi le donne nel giorno più bello della loro vita. È il giorno del sì, meravigliosi abiti da sposa. Abbiamo il piacere di avere sulla pedana a Pediconi, in atelier di Lina Pediconi. Una donna sempre protagonista, anche quando si sposa. Sicuramente è uno dei giorni che più una donna aspira, quindi di indossare l'abito dei suoi sogni. Mi sono basata moltissimo sul prezioso. Come ho visto molti Swarovski, anzi in ogni abito. Donna veramente brillante. Grazie a tutti. Grazie.